E quindi il film praticamente si è fermato, non è successo altre volte, e poi allora ho detto forse che stavolta questo film non si deve fare. Sono state tre vittime, tutte prostitute. C'è diversi l'eglisse in cui inizia il film, è un omaggio a Antonioni. Per me però aveva un altro significato, il significato di una premonizione. Ma io sono interessato alla siccità perché la siccità è la mancanza di immagini. Faccio il cinema e io quindi sono praticamente un facetore di immagini. E quindi il fatto che il cieco non mi possa vedere, per me è un handicap spaventoso. Stop! Va bene? Stop! Oh, questa andava bella. Ma la paura è un sentimento che ognuno di noi prova, come il ridere. Così aver paura, sono sentimenti del nostro animo. Aiuto! Aiuto! Questa è l'ultima. Pronto, l'ultima scelta. Aiuto! 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 Mari!